Questo emendamento intende allineare la proposta pienamente alle ultime sentenze del TAD del Consiglio di Stato in merito all'esercizio del consumo sul posto. In particolare si parla di arredi. L'abbinabilità degli arredi, come dicevo prima nell'intervento in discussione generale, che era stata oggetto di alcune circolari del Mise, è stata dichiarata inammissibile da parte delle sentenze giurisprudenziali che abbiamo visto susseguirsi nel mese di maggio e nei mesi precedenti. Quindi gli arredi utilizzabili possono essere abbinabili, però non devono essere tali da connotare un'organizzazione strutturale e funzionale del servizio comprovante l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Nella sostanza bisogna che vi sia un equilibrio e rispetto tra queste due categorie di commercio alimentare, consumo sul posto e somministrazioni nel reciproco rispetto. E questo è quanto sancito o verrà sancito da questo emendamento, dalla delibera e che è anche contenuto poi nelle sentenze del Consiglio di Stato. Grazie. 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 Grazie.